Amore a prima vista, bambini di cioccolato, ho attraversato l'oceano per stringervi a me. Ci sono emozioni che descrivere non so, soltanto condividere con tutti i cuori del mondo. No, no one has the right to be happy alone, nessuno ha detto di essere felice, lo so. No, no one has the right to be happy alone, nessuno ha detto di essere felice, lo so. Bianchi sorrisi, dietro storie tristi, sguardi che tolgo il respiro, è la limita del silenzio. Ore trascorse a giocare insieme, missione che dà speranza, anche ora che siete lontani, guardo il mio cuore e sorrido. No, no one has the right to be happy alone, nessuno ha detto di essere felice, lo so. No, no one has the right to be happy alone, nessuno ha detto di essere felice, lo so. No, no one has the right to be happy alone, nessuno ha detto di essere felice, lo so. No, no one has the right to be happy alone, nessuno ha detto di essere felice, lo so. No, no one has the right to be happy alone, nessuno ha detto di essere felice, lo so. No, no, no one has the right to be happy alone, nessuno ha detto di essere felice, lo so. No, no, no one has the right to be happy alone, nessuno ha detto di essere felice, lo so. No, no one has the right to be happy alone, nessuno ha detto di essere felice, lo so. I love my little friends, I love you forever see you. Buon appetito! Spieghiamo cosa significa questa canzone, spieghiamo perché è nata. Allora questa canzone è nata a maggio grazie all'aluto di Paolo Poddige, una canzone scritta da me dedicata ai bambini della missione indiana di Chennai per la quale stiamo lavorando per raccogliere i fondi, il cd viene venduto e tutto ricavato per la missione. Tra l'altro chi capita di navigare in lette avrà modo di vedere un video straordinario girato da quelle parti. Sì sì, sono delle immagini realizzate all'interno della missione con tanti piccoli pulcini di cioccolato come li chiamo io e poi naturalmente anche i bambini della corale Marielle Ventre di Sassari che appunto hanno partecipato alla realizzazione di questo cd. Per la pistola di questo cd cosa bisogna fare? Allora, ce l'ho io! Quindi, chi vuole dare soprattutto una mano ma chi vuole essere anche ascoltare è veramente un gran bel disco, fatto molto bene, hanno suonato dei musicisti di valore, insomma ce ne abbiamo dietro il palco, aiutiamo chi ne ha bisogno ma ascoltiamo anche un'ottima musica. Grazie Maria Speranza Lusso, ci vediamo più tardi per un altro brano. Grazie mille per aver invitato, grazie. Allora, amici!